È iniziato a Berlino il processo a due tedeschi accusati di alto tradimento per aver passato informazioni alla Russia. I due uomini sono stati arrestati lo scorso anno e sono accusati di aver ottenuto informazioni riservate dai servizi segreti tedeschi e di averle girate a quelli russi tramite un presunto socio d'affari locale. I pubblici ministeri sostengono che la divulgazione dei nove documenti al centro dell'inchiesta che riguarderebbero il gruppo paramilitare Wagner poneva un grave rischio per la sicurezza tedesca. Se riconosciuti colpevoli, gli imputati potrebbero essere condannati all'ergastolo.